e al 27esimo secondo il prodotto illuminato da sinistra sale al cielo per la gioia del committente consideriamo il fatto che la scuola nel paese è un'istituzione alquanto reazionaria, repressiva reagisce alle reazioni, non stimola interessi, non produce cultura ma propone da cent'anni le stesse vecchie storie disposino, arriva al lago, gli stessi schemi mentali, obsolete concezioni ho un piccolo rimedio per scappare, per ricredere, per risalire in cima all'altra scala di valori oh, vertigo blu, muova la vertigine che ti stimola di più oh, vertigo blu, un suono mille grini e l'esistenza comincia ora a prendere forma ho decisamente paura delle città, paura di Milano la vita è selettiva, molto selettiva, poi tra di quelli che dicono io sono un vero artista, io sono sincero, io le dico in faccia e con gli altri sono sempre corrette ma guardati all'interno, ridotto di almeno a poltuglia non produci bene i servizi, nemmeno per te stesso, non stimoli l'interesse sei tipico con metodo, ti appresti per le ferie almeno sette mesi prima ho un piccolo rimedio per scappare, per ricredere, per risalire in cima all'altra scala di valori oh, vertigo blu, muova la vertigine che ti stimola di più oh, vertigo blu, un suono mille grini e l'esistenza comincia ora a prendere forma e tu, veterano dell'adulterio, non far finta di adeguarti veterano dell'adulterio, non far finta di adeguarti veterano dell'adulterio, non far finta di adeguarti veterano dell'adulterio veterano dell'adulterio oh, vertigo blu, prova la vertigine che ti stimola di più oh, vertigo blu, un suono mille grini oh, vertigo blu, un suono mille grini oh, vertigo blu, prova la vertigine che ti stimola di più oh, vertigo blu, un suono mille grini e l'esperienza comincia ora a prendere forma oh, vertigo blu, prova la vertigine che ti stimola di più oh, vertigo blu, prova la vertigine che ti stimola di più grazie